Presidente, l'ennesima vittoria in due anni. Se mi chiedete ancora se è una conferma o l'inizio di un ciclo, non si posso dire cattive parole, ma è la volta che mi incazzo. Abbiamo dimostrato durante la stagione, durante i play-off, di essere veramente forti. Quando ci mettiamo lì a giocare non ci batte più nessuno e anche oggi in questa serie finale abbiamo vinto 3-0, 3-0, 3-1, 3-0, fuori casa. Quindi più di questo poi è il campo che dice le squadre più forti, le chiacchiere stanno a zero.